Professor Veronelli, noi abbiamo sentito nelle scorse settimane le sue critiche all'Inter di Frank De Boer, ieri un'altra prestazione negativa, un'altra sconfitta, siamo arrivati a un punto di non ritorno. Dunque, De Boer aveva azzeccato la partita con la Juventus e quella con l'Empoli, soprattutto quella contro l'Empoli. Vediamo di capire il perché. Aveva abbassato il pressing facendolo medio e non più troppo alto. Aveva creato densità difensiva tra la terza e la seconda linea, aveva giocato un calcio quindi più saggio, meno avventato, meno avventuroso e aveva ottenuto sei punti. C'era dentro quel calcio un equivoco che io avevo sottolineato. Avevo detto che il triangolo di centrocampo, Medel, Banega, Joao Mario, era un buon centrocampo per una o due partite. Era come schierare Furino con platinia destra e platinia sinistra. Joao Mario e Banega non sono mezzali, sono due numeri dieci. Quindi non possono durare molto a percorrere tutto il campo. Cos'è successo contro Juve ed Empoli? Che quel triangolo, tutte le volte che veniva attaccato, si stringeva puntualmente e faceva resistenza all'attacco del centrocampo juventino. Dopo Empoli, purtroppo, De Boer è tornato a fare con quel triangolo quello che non si deve fare. Le due mezzali si allargavano molto, non rientravano e Medel e la difesa rimanevano scoperti. Ed è quello che è accaduto non solo col Bologna ma anche ieri con il Cagliari. Quindi bisogna intervenire sul centrocampo. De Boer, se vuole ritornare in sella alla classifica, deve lasciare Medel e poi scegliere come mezzali le mezzali di ruolo. Uno può essere Joao Mario, l'altro Banega non ha il dinamismo, non ha il ritmo per fare la mezzala. Quindi dentro Brozovic e guardate cosa vi dico, tutt'al più con dobbia, che non è un mediano, non è un regista ma è una mezzala di corsa e ad Empoli non aveva fatto male. Quindi questo è il primo tassello da mettere. Poi per quanto riguarda gli esterni, non si può comandare loro di non rientrare mai, come è successo ieri. Perché il centrocampo, già con un triangolo largo, diventa totalmente scoperto. Oggi Sconcerti ha scritto sul Corriere che rimangono 30 metri vuoti. Perfetto, è proprio così. Ma sono i 30 metri del contropiede che De Boer concede a tutti gli avversari. Gli allenatori italiani lo attendono e lo colpiscono in contropiede. Nel primo tempo un possesso palla del quasi 75% non ha prodotto nulla. Anzi, l'unica palla gola è stata su palla da fermo, credo di Cepitelli del Cagliari. Questa la dice lunga sulla confusione tattica, sulla mancanza di gerarchie tattiche all'interno della squadra. Io credo che De Boer debba essere, e lo dico anche a malincuore perché è una bravissima persona, sostituito da qualcuno che abbia maggior competenza per quanto riguarda il calcio italiano. In Olanda tu puoi giocare così, avventandoti all'avversario, ma perché l'avversario non ha paratie difensive, non gioca lui sul contropiede. Quindi è un colpirsi continuo tra le due squadre e prevale chi fa un gol in più. Ma l'Inter non è lo zolle o il tuente, è una squadra del campionato italiano, dove trovi tutte formazioni ben guardinghe che giocano il contropiede o la ripartenza.